Di Franz Kafka, nella colonia penale, voce di Lorenzo Pieri «È un apparecchio singolare», disse l'ufficiale all'esploratore, contemplando con uno sguardo quasi ammirato l'apparecchio a lui ben noto. L'esploratore doveva aver accettato soltanto per cortesia l'invito del comandante che gli aveva proposto di assistere all'esecuzione di un soldato, condannato per insubordinazione e oltraggio a un superiore. Anche nella colonia penale l'interesse per quell'esecuzione non era certo notevole. Perlomeno lì, in quella piccola valle profonda e sabbiosa, chiusa all'intorno da calvi pendii, oltre all'ufficiale e all'esploratore, erano presenti solo il condannato, un uomo ottuso, con una bocca enorme, i capelli e il volto in disordine, e un soldato che teneva la pesante catena, dalla quale si dipartivano le catene più piccole, che serravano le caviglie, i polsi e il collo del condannato, e che erano unite tra loro da anelli di congiunzione. D'altronde il condannato aveva un'aria così acquiescente che si poteva sicuramente lasciarlo scorrazzare in piena libertà per i pendii e fischiargli al momento dell'esecuzione perché accorresse docile, docile come un cagnolino. L'esploratore non provò alcuna attrazione per l'apparecchio e passeggiò su e giù dietro al condannato senza mostrare nessuna partecipazione, mentre l'ufficiale si occupava degli ultimi preparativi strisciando a volte sotto l'apparecchio che penetrava profondamente nel terreno oppure salendo sopra una scala per ispezionare le parti superiori. Questi lavori spettavano più ad un meccanico ma l'ufficiale li eseguiva con molta diligenza forse perché aveva una particolare predilezione per l'apparecchio oppure tali lavori non potevano essere affidati a nessun altro per determinate ragioni. Ora tutto è pronto, gridò infine e scese dalla scala. Era completamente sfinito, respirava con la bocca spalancata e aveva infilato due eleganti fazzoletti da donna nel colletto dell'uniforme. Queste divise sono troppo pesanti per i tropici, disse l'esploratore invece di interessarsi all'apparecchio come si aspettava l'ufficiale. Indubbiamente, confermò l'ufficiale lavandosi le mani sporche d'olio e di grasso in un secchio d'acqua che stava lì accanto. Ma rappresentano la patria. Non voglio perdere la patria. Adesso osservi l'apparecchio, soggiunse subito, si asciugò le mani con un panno e puntò l'indice sull'apparecchio. Sino ad ora bisognava ricorrere anche al lavoro manuale, ma da ora in poi l'apparecchio funzionerà da solo. L'esploratore annui e seguì l'ufficiale. Questi cercò di cautelarsi in caso di eventuali inconvenienti e disse, naturalmente si possono verificare dei guasti. Io spero che oggi non ce ne siano, però bisogna sempre tenerne conto. L'apparecchio deve restare in moto ininterrottamente per dodici ore. Comunque i possibili guasti saranno minimi e verranno subito riparati. Non vuole sedersi, chiese infine, e da un mucchio di sedie di bambù ne prese una e l'offrì all'esploratore che non poté rifiutarla. Sedeva sui bordi di una fossa nella quale gettò una rapida occhiata. Non era molto profonda. Da un lato della fossa la terra estratta fungeva da argine, mentre dal lato opposto si trovava l'apparecchio. Non so, disse l'ufficiale, se il comandante le ha già illustrato l'apparecchio. L'esploratore fece un vago gesto con la mano. L'ufficiale non chiedeva di meglio, così avrebbe potuto illustrare lui stesso l'apparecchio. Questo apparecchio, disse afferrando una biella e poggiandosi ad essa, è un'invenzione del nostro precedente comandante. Io ho collaborato sin dai primi esperimenti ed ero presente anche al momento della conclusione dei lavori. Il merito dell'invenzione spetta però completamente a lui. Ha sentito parlare del nostro precedente comandante? No? Non esagero se affermo che la sistemazione di tutta la colonia penale è opera sua. Noi, suoi amici, sapevamo già, al momento della sua morte, che la sistemazione della colonia è così perfetta che il suo successore, seppure avesse mille progetti in testa, non avrebbe potuto mutare le vecchie disposizioni, almeno per molti anni a venire. La nostra previsione si è avverata. Il nuovo comandante ha dovuto ammetterlo. Peccato che lei non abbia conosciuto il comandante di prima, ma, si interruppe l'ufficiale, io mi perdo in chiacchiere e il suo apparecchio sta qui, davanti a noi. Come vede, si compone di tre parti. Col tempo, ciascuna di queste parti ha ricevuto un nomignolo. La parte inferiore si chiama il letto, quella superiore la disegnatrice e quella di centro, oscillante, l'erpice. L'erpice? chiese l'esploratore. Non aveva ascoltato con molta attenzione. Il sole dardeggiava con troppa violenza nella valle senz'ombra ed era difficile concentrare i propri pensieri. Perciò gli sembrava tanto più ammirevole l'ufficiale che spiegava con tanto slancio la sua macchina e, continuando a parlare, sistemava ogni tanto qualche pezzo con un cacciavite, chiuso, come era, nella sua attillata divisa da parata appesantita dalle spalline e ornata di cordoni. Nello stesso stato d'animo dell'esploratore doveva trovarsi anche il soldato. Aveva girato attorno ai polsi la catena del condannato e, appoggiandosi con una mano al fucile, se ne stava con la testa penzoloni senza curarsi di nulla. L'esploratore non se ne stupiva, giacché l'ufficiale parlava in francese e sicuramente né il soldato né il condannato capivano quella lingua. Era perciò sorprendente che il condannato si sforzasse di seguire la spiegazione dell'ufficiale. Con una specie di sonnolenta ostinazione, dirigeva gli sguardi nei punti indicati di volta in volta dall'ufficiale e, quando questi fu interrotto da una domanda dell'esploratore, si mise a fissarlo anche lui come l'ufficiale. Sì, l'erpice, disse l'ufficiale, il termine è appropriato. Gli aghi sono sistemati come in un erpice e il tutto viene guidato come un erpice, però in un punto solo e con maggiore maestria. D'altronde lo capirà subito. Il condannato viene disteso sul letto. Voglio prima descrivere l'apparecchio e poi procedere all'esecuzione. Così la potrà seguire meglio. Inoltre, una rotella della disegnatrice è troppo consumata, stride quando è in movimento e non permette quasi di capire quello che si dice. Purtroppo qui è assai difficile ottenere pezzi di ricambio e dunque, come le dicevo, questo è il letto. È coperto interamente da uno strato di bambagia e la ragione la conoscerà in seguito. Il condannato viene sdraiato bocconi su questa bambagia, nudo, naturalmente. Queste sono le cinghie per fissarlo ai polsi, alle caviglie e al collo. Qui, a capo del letto dove l'uomo, come le ho detto, giace inizialmente con la faccia in giù, c'è questo tampone di feltro che può essere facilmente regolato in modo da penetrare in bocca. Serve a impedire le urla o i morsi alla lingua. Naturalmente l'uomo deve mettersi per forza il tampone in bocca, altrimenti la cinghia che gli serra il collo glielo spezzerebbe. «Questa è bambagia?» chiese l'esploratore chinandosi in avanti. «Certamente», disse l'ufficiale sorridendo, «la senta lei stesso». Prese la mano dell'esploratore e l'appoggiò sopra il letto. «Si tratta di una bambagia con una preparazione speciale, per questo è tanto diversa dalle altre. Più tardi le spiegherò a che cosa serve». L'esploratore cominciava a mostrare un certo interesse per l'apparecchio. Tenendosi una mano davanti agli occhi per difendersi dal sole, aveva alzato lo sguardo verso la macchina. Era una costruzione notevole. Il letto e la disegnatrice avevano uguali dimensioni e sembravano due grosse casse scure. La disegnatrice si trovava a circa due metri d'altezza sopra il letto. Le due parti erano collegate agli angoli da quattro sbarre d'ottone che scintillavano al sole. Al centro oscillava su un nastro d'acciaio l'erpice. L'ufficiale non aveva quasi notato la precedente indifferenza dell'esploratore però ora si mostrava molto sensibile per il suo crescente interesse. Perciò interruppe le sue spiegazioni per dar tempo all'esploratore di osservare indisturbato. Il condannato imitò l'esploratore non potendo ripararsi la vista con la mano guardava in alto strizzando gli occhi. Allora l'uomo è sdraiato disse l'esploratore poggiandosi allo schienale della sedia e accavallando le gambe. Sì disse l'ufficiale tirando un po' indietro il berretto e passandosi una mano sul volto accaldato. Ora mi stia a sentire sia il letto che la disegnatrice hanno una propria batteria elettrica. Il letto la utilizza direttamente la disegnatrice se ne serve per l'erpice. Appena l'uomo è stato fissato con le cinghie il letto viene messo in movimento oscilla con rapide vibrazioni ondulatorie. Lei avrà visto forse apparecchi del genere in case di cura solo che nel nostro letto i movimenti sono calcolati con estrema precisione perché devono seguire quell'erpice al quale è affidata l'esecuzione della condanna. E qual è la condanna? chiese l'esploratore. Non sa neppure questo esclamò l'ufficiale sbalordito e si morse le labbra. Mi scusi se le mie spiegazioni sono un poco disordinate ne sono proprio mortificato. Un tempo era il comandante che forniva le spiegazioni ma il nuovo si è sottratto a questo compito onorifico però che non abbia neppure informato un visitatore così illustre. L'esploratore cercò di respingere le espressioni di deferenza con entrambe le mani ma l'ufficiale insistette un visitatore così illustre della forma della nostra condanna è un'altra novità che aveva un'imprecazione sulle labbra ma si controllò e disse soltanto ignoravo questa circostanza la colpa non è mia d'altro canto sono forse la persona più indicata per illustrare i nostri metodi di esecuzione perché ho qui con me e si batté con la mano su una tasca della giacca i disegni eseguiti personalmente dal precedente comandante disegni eseguiti dal comandante stesso chiese l'esploratore ma accentrava tutto in sé era soldato giudice costruttore chimico disegnatore sì signore confermò l'ufficiale facendo un cenno col capo e guardando fisso davanti a sé con aria assorta poi scrutò le sue mani non gli sembrarono abbastanza pulite per toccare i disegni perciò andò nuovamente verso il secchio e le lavò un'altra volta poi estrasse una piccola cartella di cuoio e disse la nostra condanna non sembra severa al condannato viene scritta sul corpo la norma che ha infranto mediante l'erquice a questo condannato per esempio l'ufficiale indicò l'uomo sarà scritto sul corpo onora i tuoi superiori l'esploratore guardò brevemente l'uomo da quando l'ufficiale lo aveva indicato aveva abbassato il capo e sembrava sforzare al massimo l'udito per capire qualcosa ma i movimenti delle sue labbra serrate dimostravano chiaramente che non riusciva a comprendere nulla l'esploratore avrebbe voluto porre diverse domande ma dopo aver guardato l'uomo chiese soltanto conosce la sua condanna no disse l'ufficiale e mostrò di voler continuare con le sue spiegazioni ma l'esploratore lo interruppe non conosce la propria condanna no ripete l'ufficiale e fece una pausa come se si attendesse dall'esploratore una precisa motivazione della sua domanda poi proseguì sarebbe inutile comunicargliela la leggerà sul proprio corpo l'esploratore voleva già rinunciare a replicare quando sentì lo sguardo del condannato puntato su di lui sembrava chiedere se approvasse il procedimento descritto perciò l'esploratore che si era già appoggiato allo schienale si chinò di nuovo in avanti e domandò ancora ma sa almeno di essere stato condannato non sa neppure questo disse l'ufficiale sorridendo all'esploratore come se si aspettasse da lui qualche strana confidenza no disse l'esploratore passandosi la mano sulla fronte allora quest'uomo non sa ancora come sia stata accolta la sua difesa non ha avuto modo di difendersi mormorò l'ufficiale distogliendo lo sguardo come se parlasse con se stesso per non mortificare il viaggiatore con la spiegazione di argomenti per lui tanto evidenti ma deve avere avuto il modo di difendersi affermò l'esploratore alzandosi in piedi l'ufficiale si rese conto che correva il pericolo di rimandare troppo a lungo la descrizione dell'apparecchio perciò andò verso l'esploratore lo prese per un braccio e gli indicò il condannato che accortosi come l'attenzione fosse così palesemente concentrata su di lui si mise sull'attenti anche il soldato tirò a sé la catena e disse le cose stanno così io sono stato nominato giudice in questa colonia penale malgrado la mia giovane età ho assistito anche il precedente comandante in tutte le condanne e conosco l'apparecchio meglio di tutti il principio a cui mi ispiro è il seguente la colpevolezza è sempre certa altri tribunali non possono seguire questo principio perché sono organi collegiali e inoltre vi sono altre corti di giustizia sopra di loro questo non accade da noi o almeno non accadeva col comandante di prima il nuovo ha già mostrato di volersi immischiare nel mio tribunale ma sinora ho potuto tenerlo lontano e vi riuscirò anche in futuro lei vuole che le spieghi questo caso è semplice come tutti gli altri questa mattina un capitano ha denunziato che quest'uomo assegnatogli come servitore e con l'obbligo di dormire davanti alla sua porta ha dormito durante il servizio egli avrebbe dovuto alzarsi ogni volta che l'orologio batteva le ore e salutare militarmente dinnanzi alla porta del capitano un compito certo non difficile ma necessario perché doveva mantenersi in forma sia per la sorveglianza che per il servizio la notte scorsa il capitano ha voluto controllare se l'uomo eseguisse il proprio dovere alle due in punto ha aperto la porta e l'ha trovato che dormiva rannicchiato prese lo scudiscio e lo colpì al viso invece di alzarsi in piedi e chiedere perdono l'uomo cinse le gambe del suo superiore lo scosse e gridò butta via la frusta o ti divoro questi sono i fatti il capitano è venuto da me un'ora fa ho scritto la sua deposizione e subito dopo la sentenza di condanna poi ho fatto incatenare l'uomo è stato tutto molto semplice se avessi prima convocato e interrogato l'uomo ci sarebbe stata soltanto confusione mi avrebbe mentito e se mi fosse riuscito di ribattere alle sue menzogne le avrebbe sostituite con altre e così via ora però lo tengo e non lo lascio più è tutto chiaro adesso ma il tempo sta passando e l'esecuzione avrebbe già dovuto cominciare mentre io non ho ancora finito di illustrarle l'apparecchio invitò l'esploratore a sedersi nuovamente si accostò all'apparecchio e riprese come vede l'erpice corrisponde alla forma dell'uomo questo è l'erpice per il dorso questi sono gli erpici per le gambe per la testa c'è solo questa punta sono abbastanza chiaro sino a questo momento si chinò affabilmente verso l'esploratore pronto a fornire ulteriori spiegazioni l'esploratore esaminò l'erpice con la fronte aggrottata le informazioni sulla procedura giudiziaria non l'avevano soddisfatto doveva ammettere però che si trovava in una colonia penale dove vigevano misure particolari e dove tutto veniva eseguito militarmente tuttavia nutriva qualche speranza nei confronti del nuovo comandante che sia pure lentamente si proponeva di introdurre nuove procedure che la mente limitata di quell'ufficiale non intendeva accettare ispirato da tali pensieri l'esploratore chiese il comandante assisterà all'esecuzione non è sicuro disse l'ufficiale urtato dall'inattesa domanda mentre il suo sorriso cordiale si spegneva proprio per questo dobbiamo affrettarci per quanto mi rincresca sarò costretto a riassumere un poco le mie spiegazioni domani però quando l'apparecchio sarà stato ripulito il suo unico difetto è che si sporca terribilmente potrò fornirle ulteriori chiarimenti per ora mi limiterò all'indispensabile quando l'uomo si trova sul letto ed esso comincia ad oscillare l'erpice viene abbassato sul corpo si regola da solo in modo da toccare appena il corpo con le sue punte quando la regolazione è avvenuta questo nastro d'acciaio si irrigidisce e il gioco incomincia un profano non nota alcuna differenza nelle punizioni l'erpice sembra operare in maniera identica immerge vibrando le sue punte nel corpo che già viene fatto vibrare a sua volta dal letto per permettere a tutti di controllare l'esecuzione della condanna l'erpice è stato fatto di vetro si sono dovute superare alcune difficoltà tecniche per fissare gli aghi in questa materia ma dopo numerosi tentativi ci siamo riusciti non ci siamo davvero risparmiati e ora tutti possono vedere attraverso il vetro come l'iscrizione si stende sul corpo non vuole venire più vicino per guardare gli aghi l'esploratore salzò lentamente si accostò alla macchina e si chinò sull'erpice lei vede disse l'ufficiale due tipi di aghi in diverse file accanto ad ogni ago lungo ce n'è uno corto i lunghi servono per scrivere mentre i corti spruzzano l'acqua per lavare il sangue e mantenere sempre chiara la scrittura l'acqua mista al sangue scorre poi in questo piccolo canale che la convoglia nel canale principale il cui tubo di scarico si trova nella fossa l'ufficiale indicò minuziosamente col dito il percorso dell'acqua insanguinata quando mise le mani sotto lo scarico come se volesse raccogliere il liquido evidentemente alzò il capo per tornare verso la sua sedia a questo punto si accorse con spavento che anche il condannato aveva seguito l'invito dell'ufficiale di osservare l'erpice più da vicino aveva trascinato con la catena il soldato insonnolito e si era piegato verso lo strumento di vetro cercava di guardare con occhi incerti quello che gli altri due avevano osservato in quel momento ma non ci riusciva perché non era in grado di seguire la spiegazione si chinava un po' qua e un po' là faceva scorrere continuamente lo sguardo sul vetro l'esploratore volle spingerlo indietro ciò che stava facendo era probabilmente passibile di una punizione ma l'ufficiale trattenne l'esploratore con una mano e con l'altra prese una zolla di terra dall'argine e la gettò verso il soldato questi alzò gli occhi di scatto vide quanto aveva osato fare il condannato lasciò cadere il fucile puntò i piedi coi tacchi sul terreno e tirò indietro il condannato con uno strattone tanto da farlo cadere poi lo guardò mentre si contorceva al suolo facendo tintinnare le sue catene rialzalo gridò l'ufficiale accorgendosi che l'esploratore stava distraendosi troppo a causa del condannato l'esploratore si era chinato infatti oltre l'erpice senza degnarlo d'uno sguardo intento solo ad osservare ciò che succedeva al condannato trattalo con cura urlò ancora l'ufficiale girò intorno alla macchina afferrò lui stesso il condannato per le ascelle e lo rimise in piedi mentre questi continuava a scivolargli dalle mani con l'aiuto del soldato ormai so tutto disse l'esploratore quando l'ufficiale tornò da lui meno l'essenziale disse questi prendendo l'esploratore per un braccio e puntando un dito in alto lì nella disegnatrice c'è il meccanismo che determina il movimento dell'erpice e questo meccanismo viene regolato secondo il disegno corrispondente alla condanna io utilizzo ancora i disegni del precedente comandante eccoli estrasse alcuni fogli dalla cartella di cuoio purtroppo non posso farglieli tenere in mano sono la cosa più preziosa che posseggo si segga glieli mostrerò da questa distanza così potrà vederli bene sciorinò il primo foglio l'esploratore avrebbe voluto dire qualche parola d'apprezzamento ma vedeva soltanto delle linee che si intrecciavano più volte come labirinti e coprivano a tal punto la carta che era difficile distinguere qualche spazio vuoto legga l'invitò l'ufficiale non posso rispose l'esploratore eppure è chiaro replicò l'ufficiale è fatto con molta arte disse il viaggiatore evasivamente ma non riesco a decifrarlo sì confermò l'ufficiale ridendo e rimise a posto la cartella non è un esercizio di bella calligrafia per scolari bisogna leggervi a lungo alla fine ci riuscirebbe sicuramente anche lei naturalmente non può essere una scrittura semplice infatti non deve uccidere subito ma dopo un lasso di tempo di circa dodici ore alla sesta ora è previsto un mutamento sostanziale quindi la scrittura vera e propria deve essere circondata da innumerevoli svolazzi la sola dicitura circonda il corpo come una cintura sottile tutto il resto del corpo è destinato a Ghirigori ora è in grado di valutare il lavoro dell'erpice e di tutto l'apparecchio guardi egli saltò sulla scala girò una manovella e gridò verso il basso attenzione si scosti e tutto si mise in movimento se un ingranaggio non avesse cigolato sarebbe stato magnifico come se fosse sorpreso da questo strepito l'ufficiale minacciò l'ingranaggio colpevole col pugno allargò le braccia in segno di scusa verso l'esploratore e scese frettolosamente dalla scala per osservare il movimento dell'apparecchio dal basso c'era ancora qualcosa che non andava di cui lui solo era in grado di accorgersi si arrampicò nuovamente sulla scala e armeggiò con entrambe le mani nell'interno della disegnatrice poi si lasciò scivolare giù lungo una delle sbarre d'ottone invece di usare la scala per fare più presto e infine si mise a urlare eccitatissimo all'orecchio dell'esploratore onde farsi udire malgrado il frastuono capisce come funziona l'erpice comincia a scrivere appena ha finito la prima stesura dello scritto sulla schiena dell'uomo lo strato di bambagia si mette in movimento e fa ruotare lentamente il corpo per procurare nuovo spazio all'erpice intanto i punti piegati dalla scrittura si posano sulla bambagia che per la sua particolare preparazione arresta subito l'emorragia e predispone il corpo ad una successiva incisione più profonda questi denti ai margini dell'erpice man mano che il corpo si gira strappano la bambagia dalle ferite la buttano nella fossa e l'erpice può riprendere il suo lavoro continua così a scrivere conficcando gli aghi sempre più profondamente per 12 ore le prime 6 ore il condannato vive quasi come prima soffre soltanto dopo 2 ore il tampone di feltro viene eliminato perché l'uomo non ha più la forza di gridare in questa scodella scaldata elettricamente qui a capo del letto si mette una broda di riso tiepido e l'uomo se ne ha voglia può mangiarne quanto riesce ad arraffare con la lingua nessuno si lascia scappare questa occasione non ho mai conosciuto nessuno che l'abbia rifiutato eppure la mia esperienza è notevole solo verso la sesta ora gli passa la voglia di mangiare di solito a questo punto mi inginocchio e osservo il fenomeno raramente l'uomo inghiotte l'ultimo boccone lo rigira solo in bocca e lo sputa nella fossa allora mi devo chinare altrimenti mi verrebbe in faccia come si fa silenzioso verso la sesta ora anche il più stupido comincia a capire la rivelazione parte dagli occhi e si diffonde per tutto il corpo è un momento che ti fa venire il desiderio di sdraiarti con lui sotto l'erpice in fondo accade una cosa soltanto l'uomo inizia a decifrare lo scritto le sue labbra sono serrate come se si sforzasse di ascoltare qualcosa con la massima attenzione lei ha notato che non è facile decifrare la scritta con gli occhi il nostro uomo invece la decifra con le sue ferite indubbiamente è un lavoro lungo ha bisogno di sei ore per portarlo a compimento quando ha finito l'erpice lo trafigge completamente e lo butta nella fossa dove piomba sulla bambagia e l'acqua insanguinata la condanna è così eseguita e noi io e il soldato lo seppelliamo il viaggiatore aveva chinato l'orecchio verso l'ufficiale e guardava il lavoro della macchina tenendo le mani nelle tasche della giacca anche il condannato la guardava però senza capire se era appunto piegato per seguire meglio gli aghi oscillanti quando il soldato gli tagliò da dietro con un coltello la camicia e i calzoni l'uomo cercò di trattenere gli indumenti prima che cadessero ma il soldato lo sollevò in aria e scosse via gli ultimi stracci che lo ricoprivano l'ufficiale fermò la macchina e nel sopravvenuto silenzio il condannato fu sistemato sotto l'erpice furono tolte le catene e allacciate le cinghie in un primo momento questo parva essere quasi un sollievo per il condannato l'erpice si abbassò un altro po' perché l'uomo era magro quando le punte lo sfiorarono la sua pelle fu presa da un brivido mentre il soldato era affaccendato con la destra egli tese la mano sinistra senza sapere bene dove era la direzione in cui si trovava l'esploratore questi era osservato in tralice dall'ufficiale che sembrava voler leggere sul suo volto le impressioni suscitategli dall'esecuzione sommariamente illustrata la cinghia destinata al polso si strappò probabilmente il soldato l'aveva stretta troppo l'ufficiale accorse e il soldato gli mostrò la cinghia strappata con la faccia rivolta verso l'esploratore l'ufficiale spiegò la macchina è molto complessa ogni tanto succede che qualcosa si rompa o si strappi però tali inconvenienti non sono determinanti per il giudizio complessivo la cinghia può essere sostituita facilmente userò una catena anche se la sensibilità della vibrazione sul braccio destro non sarà più perfetta mentre sistemava la catena soggiunse oggi i mezzi per la manutenzione della macchina sono molto ridotti ai tempi del vecchio comandante avevo a mia disposizione un fondo destinato unicamente a questo scopo c'era un deposito in cui si conservavano tutti i pezzi di ricambio ammetto che ne facevo quasi spreco prima ora non più giacché il nuovo comandante usa ogni pretesto per distruggere le vecchie istituzioni i fondi per la macchina li amministra attualmente da solo e se gli mando a chiedere una cinghia nuova vuole avere indietro la vecchia come prova la nuova arriva dopo dieci giorni e non vale molto però nessuno si domanda come io debba far funzionare nel frattempo la macchina senza cinghia l'esploratore riflette è sempre rischioso intervenire con fermezza in questioni estranee egli non era né un cittadino della colonia penale né dello stato a cui essa apparteneva se avesse voluto condannare o addirittura impedire l'esecuzione gli avrebbero potuto rispondere sei uno straniero e taci a queste parole non avrebbe potuto replicare nulla anzi avrebbe dovuto soggiungere che lui stesso non sapeva come giustificare il proprio comportamento giacché lo scopo del suo viaggio era di raccogliere osservazioni e non di modificare le procedure giudiziarie di altri paesi tuttavia in questo caso specifico la tentazione era troppo forte in quanto l'iniquità del giudizio e l'atrocità dell'esecuzione erano assai evidenti nessuno poteva sospettare un suo interesse personale infatti il condannato gli era completamente sconosciuto non era un suo connazionale né era un tipo che potesse suscitare pietà infine egli era munito di lettere di presentazione di altissimi personaggi era stato ricevuto con tutti gli onori e il fatto che fosse stato invitato all'esecuzione forse era un'implicita richiesta di esprimere un suo autorevole parere in proposito quest'ultima ipotesi era avvalorata anche dalla circostanza appena appresa che il comandante non era soddisfatto di quella procedura e si mostrava quasi ostile nei confronti dell'ufficiale improvvisamente l'ufficiale lanciò un grido di rabbia aveva appena sistemato e non senza fatica il tampone di feltro nella bocca del condannato quando questi in preda ad un conato chiuse gli occhi e vomitò l'ufficiale lo sollevò in fretta dal tampone e volle storcergli la testa verso la fossa ma ormai era troppo tardi il rigurgito stava già colando lungo la macchina è tutta colpa del comandante esclamò l'ufficiale e si mise a scuotere come un invasato le sbarre d'ottone mi stanno insudiciando la macchina come una stalla con la mano tremante indicò all'esploratore quanto era successo per ore e ore ho cercato di far capire al comandante che il cibo non deve essere fornito già un giorno prima dell'esecuzione ma i nuovi sistemi umanitari sono contrari alle mie teorie le signore del comandante rimpinzano l'uomo di dolciumi prima che sia condotto via per tutta la vita si è nutrito di pesci puzzolenti e ora deve mangiare dolciumi anche questo sarebbe ammissibile e non avrei nulla da obiettare se almeno mi avesse fatto avere un tampone nuovo che ho richiesto da più di tre mesi come si può tenere in bocca senza provare ribrezzo questo feltro che più di cento uomini agonizzanti hanno succhiato e masticato il condannato aveva adagiato il capo con aria tranquilla mentre il soldato puliva la macchina con i resti della sua camicia tagliata l'ufficiale si avvicinò all'esploratore che fece un passo indietro come se fosse mosso da un presentimento tuttavia l'ufficiale lo prese per mano e lo tirò in disparte voglio dirle qualche parola in confidenza disse me lo consente certo rispose l'esploratore preparandosi ad ascoltarlo con gli occhi bassi questa procedura e questa esecuzione capitale che lei ha ora occasione di ammirare non hanno più aperti sostenitori nella nostra colonia io sono rimasto l'unico paladino anche del retaggio lasciato dal vecchio comandante non posso più sperare in un ulteriore sviluppo del procedimento e sto consumando tutte le mie forze per mantenere in piedi ciò che è rimasto quando il precedente comandante era vivo la colonia era piena di suoi sostenitori io dispongo di una piccola parte della sua forza di persuasione ma mi manca completamente la sua autorità di conseguenza i seguaci si sono acquattati ve ne sono ancora molti nessuno ha però il coraggio di dirlo apertamente se lei andasse oggi giorno destinato ad un'esecuzione nella casa da te e si mettesse ad ascoltare ciò che dice la gente udrebbe probabilmente solo discorsi ambigui sono tutti dei sostenitori ma non con questo comandante e le sue opinioni non mi sono di nessun aiuto ora io le chiedo per colpa del suo comandante e delle donne che lo influenzano un'opera simile per la quale è stata spesa una intera vita egli indicò la macchina deve andare perduta è giusto permettere questo anche se si è uno straniero e si conosce la nostra isola solo da un paio di giorni ormai non c'è più tempo da perdere si sta già tramando qualcosa contro la mia competenza giudiziaria al comando vengono tenute delle riunioni alle quali non vengo invitato persino la sua presenza odierna e significativa sono dei vili e mandano avanti lei uno straniero come erano diverse le esecuzioni in passato già il giorno prima tutta la valle brulicava di gente tutti venivano solo per vedere al mattino presto compariva il comandante con le signore le fanfare risvegliavano tutto l'accampamento io mi presentavo a rapporto e annunciavo che tutto era pronto le autorità nessun alto funzionario poteva mancare si disponevano attorno alla macchina questo mucchio di sedie è un misero rimasuglio di quei tempi la macchina luccicava pulita di fresco per ogni esecuzione adoperavo nuovi pezzi di ricambio davanti a centinaia di sguardi tutti gli spettatori stavano in punta di piedi sino alle alture là in fondo il condannato veniva sistemato sotto l'erpice dal comandante in persona il lavoro che oggi venne eseguito da un soldato semplice un tempo spettava a me al presidente del tribunale e io ne ero onorato quindi cominciava l'esecuzione nessuna stonatura disturbava l'opera della macchina alcuni non guardavano neppure ma giacevano nella sabbia con gli occhi chiusi tutti sapevano ora si sta compiendo la giustizia nel silenzio si udivano solo i gemiti del condannato attutiti dal tampone oggi la macchina non riesce a strappare al condannato un lamento più forte di quanto il feltro possa soffocare allora dagli aghi che scrivevano stillava un liquido urticante che adesso non si può più usare e poi arrivava la sesta ora non era possibile accontentare tutti coloro che desideravano assistere più da vicino il comandante nella sua saggezza aveva ordinato di dare la preferenza soprattutto ai bambini grazie alla mia carica io potevo stare sempre lì accanto spesso ero accoccolato con due fanciulli tra le braccia uno a destra l'altro a sinistra con quanta intensità spiavamo l'espressione trasfigurata in quel volto martoriato e porgevamo le nostre guance ai raggi della giustizia finalmente raggiunta e subito svanita che tempi camerata che bei tempi l'ufficiale dimenticando evidentemente chi avesse dinnanzi a sé abbracciò l'esploratore e poggiò il capo sulla sua spalla l'esploratore si sentiva estremamente imbarazzato e guardava con occhi impazienti al di sopra dell'ufficiale intanto il soldato aveva terminato le pulizie e aveva versato da una gavetta un po' di riso nel recipiente appena ebbe finito il condannato che sembrava essersi ripreso completamente allungò la lingua verso la broda il soldato continuava a respingerlo perché il riso era forse destinato a una fase successiva comunque era anche sconveniente che il soldato affondasse le sue dita sporche nella poltiglia e la mangiasse proprio davanti agli occhi avidi del condannato l'ufficiale si riprese rapidamente non avevo intenzione di commuoverla disse so che è impossibile far rivivere oggi quei tempi del resto la macchina funziona ancora e opera da sé opera da sé anche se sta sola in questa valle e il cadavere cade sempre nella fossa con un volo inspiegabilmente dolce anche se non ci sono più le innumerevoli persone che si assembrano intorno come mosche un tempo i margini erano protetti da una solida linghiera ormai scomparsa l'esploratore tentava di distogliere il volto dall'ufficiale e faceva vagare lo sguardo senza una meta precisa l'ufficiale pensò che guardasse lo squallore della valle perciò gli prese le mani e gli girò attorno per cogliere il suo sguardo e gli chiese si rende conto dell'infamia ma l'esploratore tacque l'ufficiale si staccò da lui e rimase immobile guardando a terra con le gambe divaricate e le mani sui fianchi poi fece un sorriso accattivante all'esploratore e disse ieri mi trovavo vicino a lei quando il comandante l'ha invitata ho sentito la proposta conosco il comandante e ho capito subito lo scopo dell'invito sebbene la sua autorità sia sufficiente per procedere contro di me egli non osa ancora farlo ma vuole espormi al suo giudizio al giudizio di un importante ospite straniero il suo piano è preciso lei si trova nell'isola da due giorni non conosceva il vecchio comandante né le sue opinioni lei è un autorevole esponente del pensiero europeo forse avversa per principio la pena capitale e in modo particolare un modo di giustiziare così meccanico inoltre si accorge che l'esecuzione si svolge tristemente senza partecipazione di pubblico e con una macchina in condizioni precarie sommando tutte queste circostanze così pensa il comandante non sarebbe abbastanza ovvio che lei disapprovi la mia procedura e se la disapprova lei non nasconderà certamente questo suo pensiero parlo sempre seguendo l'ipotesi del comandante perché si fida delle proprie solide convinzioni lei ha potuto studiare e apprezzare i costumi di diversi popoli e probabilmente non esprimerà un giudizio completamente negativo nei confronti della procedura come farebbe invece se questa fosse applicata nel suo paese ma il comandante non ha bisogno di tanto un accenno fugace una parola imprudente gli saranno sufficienti non devono necessariamente corrispondere alle sue convinzioni basta che collimino con i desideri del comandante stesso sono certo che le rivolgerà molte domande con astuzia diabolica le signore sedute intorno saranno tutto orecchi lei dirà forse da noi la procedura penale è diversa oppure da noi si ascolta l'accusato prima di pronunziare la sentenza oppure da noi si notifica la sentenza al condannato oppure da noi esistono anche le altre pene oltre a quella capitale oppure da noi le torture si infliggevano solo nel medioevo queste sono osservazioni giustissime osservazioni innocenti che non toccano direttamente la mia procedura ma come la accoglierà il comandante lo vedo il buon comandante come scansa la sedia e si precipita al balcone vedo le signore che gli corrono dietro sento già la sua voce le signore la definiscono una voce tonante che afferma un grande scienziato dell'occidente incaricato ad esaminare le procedure giudiziarie di tutti i paesi ha appena dichiarato che la nostra vecchia procedura è disumana dopo il giudizio di un personaggio tanto autorevole non mi è possibile naturalmente tollerare ancora tale procedura ordino quindi che in data odierna eccetera lei vorrebbe intervenire precisare di non aver mai detto nulla del genere di non aver mai definito disumana la mia procedura anzi secondo il suo meditato avviso è la più umana e la più degna lei è persino un ammiratore di questa macchina ma ormai è troppo tardi lei non può neanche raggiungere il balcone che è già gremito di signore cerca di farsi notare vorrebbe gridare ma una mano femminile le chiude la bocca e io e l'opera del vecchio comandante siamo perduti per sempre l'esploratore si sforzò di non sorridere era dunque così facile il compito che aveva immaginato tanto difficile per tutta risposta mormorò evasivamente lei sopravvaluta la mia influenza il comandante ha letto le mie credenziali e sa che non sono un esperto di procedure giudiziarie se esprimessi un parere sarebbe unicamente quello di un privato cittadino non più importante del parere di qualsiasi altra persona e sicuramente assai meno importante di quello del comandante che in questa colonia penale almeno mi sembra ha poteri molto ampi se la sua opinione su questa procedura è così precisa come lei ritiene allora temo che la sua abrogazione sia ormai imminente anche senza il mio modesto intervento aveva capito l'ufficiale no non aveva ancora capito scosse vivacemente il capo si voltò indietro per un attimo e guardò il soldato e il condannato che sobbalzarono e smisero di ingurgitare il riso si avvicinò poi all'esploratore e senza guardarlo in volto bensì in un punto impreciso della giacca gli disse sotto voce lei non conosce il comandante lei si comporta con lui e anche con noi in maniera mi scusi l'espressione piuttosto ingenua la sua influenza mi creda non può essere valutata abbastanza sono stato felicissimo quando ho saputo che lei avrebbe assistito da solo all'esecuzione l'ordine del comandante doveva danneggiarmi ma io l'ho volto a mio favore senza essere sviato da falsi consigli e occhiate piene di disprezzo inevitabili quando si ha una notevole affluenza di gente all'esecuzione lei ha potuto udire in pace le mie spiegazioni ha visto con comodo la macchina e ora sta per osservare come il condannato sarà giustiziato il suo giudizio è stato sicuramente già formulato se sussistesse ancora qualche dubbio la vista dell'esecuzione l'eliminerà di certo e ora le rivolgo la mia preghiera mi sostenga davanti al comandante l'esploratore non lo lasciò continuare come potrei farlo esclamò è impossibile io non posso né giovarle né nuocerle lei può replicò l'ufficiale l'esploratore notò con un certo allarme che l'ufficiale stava serrando i pugni lei può ripete l'ufficiale con ostinazione ho un piano che dovrebbe riuscire lei crede che la sua influenza non basti io so che basta ma ammettiamo pure che lei abbia ragione per far sopravvivere questa procedura non è forse giusto tentare anche l'impossibile ascolti dunque il mio piano per farlo riuscire è necessario però che lei oggi nella colonia non esprima apertamente il suo parere sull'esecuzione se non riceve una domanda diretta non ne parli per niente le sue dichiarazioni siano comunque brevi ed evasive tutti dovranno notare che ne parla malvolentieri che si sente molto amareggiato e che se potesse essere sincero farebbe fuoco e fiamme si intende che non pretendo che lei menta fornisca soltanto risposte brevi come si ho assistito all'esecuzione oppure si ho sentito le spiegazioni solo questo e nient'altro ne mancano i motivi per l'amarezza che si scolgerà sul suo volto anche se non sono proprio quelli che crede il comandante egli fraintenderà tutto naturalmente e interpreterà ogni sua parola a modo suo il mio piano si basa su questo equivoco domani si svolgerà presso la sede del comando un'importante riunione di tutti i più alti funzionari dell'amministrazione sotto la presidenza del comandante egli ha saputo trasformare queste riunioni in una specie di spettacolo è stata costruita una galleria che è sempre piena di spettatori io sono obbligato a partecipare a queste sedute anche se mi disgustano domani lei sarà sicuramente invitato se oggi poi si comporterà come le ho detto la pregheranno caldamente di venire tuttavia se per qualche motivo inspiegabile l'invito non dovesse arrivare lei dovrà sollecitarlo la contenteranno sicuramente lei siede dunque in compagnia delle signore nel palco del comandante egli alza spesso lo sguardo per assicurarsi della sua presenza dopo varie discussioni su argomenti futili e ridicoli destinate unicamente a impressionare il pubblico di solito si tirano in ballo le opere portuali sempre le opere portuali si comincia a parlare della procedura giudiziaria se non ci pensa il comandante o comunque egli tardasse a farlo intervengo io stesso mi alzo in piedi e do l'annunzio dell'esecuzione odierna sono brevissimo solo l'annunzio e basta anche se tali comunicazioni non rientrano nella prassi di quelle sedute la faccio ugualmente il comandante come sempre mi ringrazia con un sorriso cortese e naturalmente non si lascia scappare la buona occasione è stato dato ora l'annunzio dell'avvenuta esecuzione capitale dice più o meno desidero informare tutti che a tale esecuzione è intervenuto anche il famoso scienziato che come noto ci sta onorando con una sua visita alla nostra colonia anzi l'odierna seduta acquista un maggiore prestigio grazie alla sua presenza tra noi chiediamo quindi all'illustre uomo di scienza il suo illuminato giudizio sull'esecuzione avvenuta secondo il vecchio sistema e sulla procedura penale seguita naturalmente tutti applaudono e manifestano il loro assenso io sono tra i più entusiasti il comandante si inchina verso di lei e dice in nome di tutti le rivolgo la domanda allora lei si avvicina alla balaustra poggia le mani in modo che tutti possano vederle altrimenti le signore le afferrerebbero e si metterebbero a giocherellare con le sue dita finalmente lei può dire la sua non so proprio come resisterò all'attenzione sino a quel momento nel suo discorso non deve imporsi alcuna limitazione faccia sentire chiaramente il peso della verità si sporga dalla balaustra urli sì urli al comandante la sua opinione la sua inalterabile opinione ma forse non intende fare così il suo carattere rifugge da questi gesti plateali nel suo paese ci si comporta in modo diverso in queste circostanze andrà bene lo stesso basterà non salzi neppure dica solo due parole le bisbigli facendosi sentire solo dai funzionari che le stanno più vicino anche questo sarà sufficiente non è necessario che sia lei a parlare della mancata partecipazione di pubblico all'esecuzione dell'ingranaggio che stride delle cinghie strappate del tampone disgustoso no mi occuperò io di tutto e mi creda se le mie parole non basteranno a cacciare il comandante dalla sala lo metterò comunque alle corde costringendolo a dichiarare vecchio comandante mi inchino dinnanzi a te questo è il mio piano vuole aiutarmi a realizzarlo certo che lo vuole anzi lo deve e l'ufficiale strinse l'esploratore per le braccia e lo fissò in volto col fiato sospeso aveva pronunziato le ultime frasi a voce così alta che persino il soldato e il condannato si erano fatti attenti sebbene non potessero capire le sue parole avevano smesso di mangiare e guardavano masticando verso l'esploratore sin dal primo momento l'esploratore non aveva dubbi sulla risposta che avrebbe dovuto dare nel corso della sua vita aveva fatto troppe esperienze per poter esitare a questo punto era un uomo profondamente onesto e non aveva timori tuttavia ebbe un attimo di titubanza alla vista del soldato e del condannato infine disse come era suo dovere no l'ufficiale strizzò alcune volte gli occhi ma non smise di fissarlo vuole una spiegazione chiese l'esploratore l'ufficiale annui in silenzio sono contrario a questa procedura proclamò quindi l'esploratore prima ancora che lei si confidasse con me e in nessun caso abuserò delle sue confidenze mi sono chiesto se avessi il diritto di intervenire contro questa procedura e se il mio intervento aveva qualche possibilità di successo mi era chiaro a chi avrei dovuto rivolgermi per primo al comandante naturalmente lei me l'ha chiarito ancora meglio senza rafforzare però la mia decisione anzi apprezzo la sua onesta convinzione anche se non può farmi cambiare idea l'ufficiale rimase muto si girò verso la macchina afferrò una sbarra d'ottone e rovesciandosi un po' all'indietro guardò in alto verso la disegnatrice come se volesse controllare se tutto fosse a posto il soldato e il condannato sembravano aver fatto amicizia il condannato malgrado le notevoli difficoltà causate dai suoi legami faceva dei segni al soldato questi si chinò su di lui e il condannato gli bisbigliò qualcosa facendolo annuire l'esploratore seguì l'ufficiale e disse lei non sa ancora che cosa mi propongo di fare riferirò al comandante la mia opinione sulla procedura ma non durante una seduta bensì a quattro occhi non mi tratterrò qui abbastanza a lungo per essere coinvolto in una seduta partirò già domattina presto o perlomeno mi imbarcherò sembrava che l'ufficiale non l'avesse sentito allora la procedura non l'ha convinto disse a se stesso e sorrise come un vecchio che sorride per le sciocchezze d'un bimbo continuando però a riflettere seriamente dietro al suo sorriso allora è giunto il momento mormorò guardando l'esploratore con occhi luminosi il suo sguardo era esortante invitava alla partecipazione e quale momento chiese inquieto l'esploratore ma non ebbe risposta sei libero disse l'ufficiale al condannato nella sua lingua questi al principio rimase incredulo sei libero ti dico ripete l'ufficiale per la prima volta la faccia del condannato s'animò era vero oppure era un capriccio dell'ufficiale che avrebbe potuto svanire era stato il signore straniero a ottenere la grazia che cosa era accaduto questi erano gli interrogativi che si potevano leggere sul suo viso ma non durarono a lungo quale ne fosse la ragione visto che lo poteva voleva essere realmente libero e cominciò a dimenarsi per quanto gli consentiva l'erpice mi strappi le cinghie strillò l'ufficiale stai calmo ti slegheremo subito e si mise al lavoro con il soldato al quale aveva fatto un cenno il condannato rideva piano davanti a sé ogni tanto girava la faccia a sinistra verso l'ufficiale a destra verso il solco e non dimenticava neppure l'esploratore tiralo fuori ordinò l'ufficiale al soldato era necessario usare qualche precauzione per via dell'erpice a causa della sua impazienza il condannato si era già procurato delle piccole lacerazioni sulla schiena da quel momento l'ufficiale non si occupò più di lui andò verso l'esploratore estrasse nuovamente la cartella di cuoio con i disegni li sfogliò trovò infine quello che cercava e lo mostrò all'esploratore legga gli disse non ci riesco rispose l'esploratore le ho già detto che non riesco a leggere questi schizzi osservi bene il foglio insistè l'ufficiale accostandosi all'esploratore per leggere insieme a lui vedendo che neppure questo serviva indicò col mignolo ma a una certa distanza come se la carta non dovesse assolutamente essere sfiorata i punti salienti per aiutare l'esploratore a decifrare lo scritto l'esploratore fece del suo meglio per compiacere almeno in questo l'ufficiale ma senza riuscirvi allora l'ufficiale si mise a scandire lettera per lettera e poi lesse la frase completa si giusto c'è scritto disse adesso lo può leggere l'esploratore si chinò a tal punto sul foglio che l'ufficiale lo scostò per tema ad un contatto l'esploratore rimase zitto ma era palese che non era riuscito a decifrare niente si giusto c'è scritto ripete l'ufficiale sarà così rispose l'esploratore le credo che ci sia scritto questo va bene mormorò l'ufficiale soddisfatto almeno parzialmente e montò sulla scala col foglio in mano sistemò con grande cura lo scritto nella disegnatrice e regolò nuovamente gli ingranaggi era un lavoro molto complicato doveva trattarsi anche di ingranaggi assai minuscoli talvolta la testa dell'ufficiale spariva interamente nella disegnatrice e gli doveva esaminare il meccanismo con estrema cura l'esploratore seguiva attentamente questo lavoro dal basso il collo gli si fece rigido e gli occhi gli bruciarono abbacinati dal cielo pieno di sole il soldato e il condannato erano indaffarati tra loro la camicia e i calzoni del condannato che si trovavano nella fossa furono tirati fuori dal soldato con la punta della baionetta la camicia era spaventosamente sudicia e il condannato la lavò nel secchio dell'acqua quando ebbe indossato i due indumenti lui e il soldato scoppiarono a ridere perché erano tagliati di dietro forse il condannato si sentiva in dovere di divertire il soldato e si girò con gli abiti squarciati davanti a quest'ultimo che se ne stava accovacciato in terra e batteva le mani sulle ginocchia sghignazzando alla fine però cercarono di ricomporsi per un riguardo verso i signori quando l'ufficiale ebbe finito di trafficare in alto abbracciò con lo sguardo tutto l'insieme chiuse il coperchio della disegnatrice che sino allora era rimasto aperto scese dalla scala gettò un'occhiata alla fossa e poi al condannato notò soddisfatto che questi aveva ripreso i suoi indumenti quindi si avvicinò al secchio dell'acqua per lavarsi le mani si accorse troppo tardi della ripugnante sporcizia fu rattristato di non potersi sciacquare le mani e le immerse infine questo surrogato non lo soddisfece ma dovette adattarsi nella sabbia quando fu di nuovo in piedi cominciò a sbottonarsi la casacca gli rimasero in mano i due fazzoletti da donna che aveva infilato nel colletto ecco i tuoi fazzoletti disse gettandoli al condannato poi spiegò all'esploratore regali delle signore nonostante la fretta evidente con la quale si tolse la casacca e poi si spogliò completamente trattò con estrema cura ogni capo di vestiario passando persino le dita sui cordoni d'argento e raddrizzando una nappa non si accordava però con questa cura il fatto che dopo averlo ben sistemato gettasse con una certa riluttanza ogni indumento nella fossa l'ultimo oggetto che gli rimase fu lo spadino con la cinghia estratta la lama dal fodero la spezzò raccolse i pezzi dello spadino e la cinghia e li scagliò con tanta violenza nella fossa che tintinnarono aspramente cozzando fra loro ora stava lì nudo l'esploratore si morse le labbra ma non disse nulla sapeva che cosa stava per accadere ma non aveva il diritto d'ostacolare l'ufficiale se la procedura giudiziaria alla quale l'ufficiale si mostrava così attaccato era tanto prossima ad essere abrogata forse anche per l'intervento che l'esploratore si sentiva in dovere di fare allora l'ufficiale stava agendo giustamente al suo posto l'esploratore avrebbe fatto lo stesso inizialmente il soldato e il condannato non capirono nulla non stavano nemmeno a guardare il condannato era molto contento della restituzione dei fazzoletti ma la sua gioia fu di breve durata perché il soldato glieli prese con un gesto rapido e imprevedibile il condannato cercò allora di sfilarli dal cinturone dove il soldato li aveva messi però questi stava in guardia così si baruffarono scherzosamente solo quando l'ufficiale fu completamente nudo si fecero attenti il condannato in modo particolare ebbe il presagio di un grande cambiamento ciò che era capitato a lui stava capitando all'ufficiale forse sarebbe giunto sino all'estrema conseguenza forse il signore straniero aveva impartito quell'ordine era questa la vendetta senza aver sofferto sino in fondo veniva vendicato sino in fondo un ampio muto sorriso si disegnò sul suo volto e vi rimase l'ufficiale invece si stava dedicando alla macchina se prima era già abbastanza evidente che conoscesse assai bene l'apparecchio ora era veramente sbalorditivo come lo maneggiasse e come questi gli ubbidisse egli aveva appena avvicinato la mano all'erpice che esso si sollevò e si abbassò più volte sino a raggiungere la posizione giusta per accoglierlo gli bastò sfiorare un bordo del letto perché si mettesse subito a vibrare il tampone di feltro andò incontro alle sue labbra si vedeva che egli non lo voleva ma la sua esitazione fu di breve durata e si rassegnò a prenderlo in bocca tutto era pronto solo le cinghie pendevano ai lati evidentemente non servivano l'ufficiale non aveva bisogno di essere legato il condannato si accorse delle cinghie sciolte a suo avviso l'esecuzione non era completa se le cinghie non erano allacciate egli sollecitò il soldato con un cenno e tutti e due corsero a legare l'ufficiale questi aveva già allungato un piede per dare un colpo alla manovella che avrebbe messo in movimento la disegnatrice quando notò la presenza dei due allora ritirò il piede e si lasciò legare ma adesso non poteva più raggiungere la manovella e né il soldato né il condannato sarebbero stati capaci di trovarla l'esploratore aveva deciso di non immischiarsi nel modo più assoluto non fu necessario alcun intervento esterno appena le cinghie furono sistemate la macchina si mise al lavoro da sola il letto vibrò gli aghi danzarono sulla pelle l'erpice oscillò in su e in giù l'esploratore stava già fissando l'apparecchio da un bel pezzo quando si ricordò che un ingranaggio avrebbe dovuto stridere ma non si udiva il minimo rumore con la sua attività silenziosa la macchina cessò da tirare l'attenzione degli astanti l'esploratore volse lo sguardo verso il soldato e il condannato il condannato era quello più eccitato ogni particolare della macchina l'interessava a volte si abbassava a volte salzava in punta di piedi aveva sempre l'indice puntato in una direzione diversa per mostrare qualcosa al soldato l'esploratore si sentiva a disagio aveva deciso di restare lì sino all'ultimo ma non avrebbe potuto sopportare più a lungo la vista di quei due tornate a casa intimò loro il soldato sarebbe stato pronto a farlo ma il condannato intese quell'ordine come una punizione implorò con le mani giunte di lasciarlo lì e quando l'esploratore non volle cedere e scosse il capo negativamente si buttò persino ai suoi piedi l'esploratore si rese conto che gli ordini non servivano a niente e decise di cacciare i due con la forza improvvisamente sentì un rumore provenire dall'alto era la disegnatrice alzò lo sguardo allora il famoso ingranaggio funzionava di nuovo male ma si trattava di ben altro il coperchio della disegnatrice si sollevò lentamente per poi aprirsi del tutto con uno scatto secco i denti di una rotella fecero capolino e assai presto apparve tutto l'ingranaggio sembrava che una forza sconosciuta comprimesse la disegnatrice senza lasciare più spazio a quell'ingranaggio che si sollevò sino al bordo e cadde fuori quindi rotolò per un po' sulla sabbia e vi si adagiò ma un'altra ruota dentata stava già spuntando seguita da molte altre ancora grandi piccole e minuscole tutte facevano la stessa fine si sarebbe detto che la disegnatrice fosse ormai vuota quando apparve un gruppo ancora più numeroso che si sollevò cadde fuori rotolò sulla sabbia e si adagiò su un fianco lo spettacolo fece dimenticare al condannato l'ordine dell'esploratore le ruote dentate lo entusiasmavano tentava continuamente di acchiapparne qualcuna ed esortava il soldato ad aiutarlo però ogni volta che allungava una mano la ritirava bruscamente perché temeva di essere colpito dalla ruota che veniva subito dopo l'esploratore invece era molto inquieto era chiaro che la macchina stava andando a pezzi il suo funzionamento silenzioso era stato un abbaglio ora sentiva il dovere di occuparsi dell'ufficiale visto che questi non poteva sbrigarsela da solo ma la caduta degli ingranaggi aveva catalizzato tutta la sua attenzione ed egli aveva trascurato di controllare le altre parti della macchina quando osservò l'erpice dopo l'espulsione di tutti gli ingranaggi della disegnatrice ebbe una nuova sorpresa ancora più sgradevole l'erpice non scriveva trafiggeva soltanto e il letto non faceva girare il corpo ma lo spingeva sussultando contro gli aghi l'esploratore volle intervenire e fermare tutto se era possibile quella non era la tortura che l'ufficiale aveva cercato era un semplice assassinio tese le mani ma l'erpice si sollevò improvvisamente e si spostò di lato con il corpo infilzato come faceva di solito dopo la dodicesima ora il sangue scorreva in cento rivoli non mescolato all'acqua perché anche i tubicini dell'acqua non avevano funzionato e ora anche l'ultima fase fece fiasco il corpo non si staccò dai lunghi aghi e rimase sospeso sopra la fossa sanguinando dalle innumerevoli ferite l'erpice stava per tornare al suo posto ma come se si fosse accorto da solo di non essersi liberato da quel peso continuò a restare sopra la fossa aiutatemi dunque gridò l'esploratore al soldato e al condannato afferrando lui stesso i piedi dell'ufficiale voleva sfilare i piedi mentre gli altri due dovevano prendere la testa dell'ufficiale per staccarlo dagli aghi i due non si decidevano a venire il condannato gli girò addirittura le spalle l'esploratore fu costretto ad andare da loro e trascinarli a viva forza verso la testa dell'ufficiale in quell'occasione vide quasi senza volerlo il volto del cadavere era tale e quale come in vita nessun segno della redenzione promessa era avvertibile l'ufficiale non aveva trovato nella macchina ciò che vi avevano trovato tutti gli altri le labbra erano serrate gli occhi spalancati avevano l'espressione della vita lo sguardo era sereno e convinto sulla fronte sporgeva la punta accuminata del dente di ferro quando l'esploratore con il soldato e il condannato alle calcagna giunse davanti alle prime case della colonia il soldato ne indicò una e disse qui si trova la casa da te al piano terreno di una casa si scorgeva un vano profondo basso simile ad una caverna con le pareti e il soffitto anneriti dal fumo era aperto sulla strada per tutta la sua larghezza sebbene la casa da te si distinguesse poco dagli altri edifici della colonia che compresi i palazzi del comando erano alquanto malconci l'esploratore ne rimase suggestionato come se si trattasse di un monumento storico dal quale emanava il ricordo di un antico potere seguito dai suoi accompagnatori si fece strada tra i tavoli ancora liberi sistemati davanti all'ingresso della casa da te e respirò l'aria fredda e fetida che proveniva dall'interno il vecchio è sepolto qui disse il soldato il prete gli ha negato un posto al cimitero per un certo tempo non si sapeva dove seppellirlo alla fine è stato sotterrato qui sicuramente l'ufficiale non le ha raccontato niente di questo perché era la cosa di cui si vergognava di più ha persino tentato più volte di esumare il vecchio ma è stato sempre cacciato via dov'è la tomba chiese l'esploratore che non poteva credere al soldato immediatamente i due il soldato e il condannato gli passarono avanti e puntarono gli indici sul luogo dove avrebbe dovuto trovarsi la tomba condussero l'esploratore sino alla parete di fondo dove alcuni avventori erano seduti attorno ai tavoli si trattava probabilmente di portuali uomini robusti con corte barbe nere e lucenti erano tutti senza giacca e avevano la camicia lacera erano popolani poveri e sottomessi quando l'esploratore s'avvicinò alcuni scattarono in piedi si strinsero alla parete e lo fissarono è un signore forestiero si mormorò attorno all'esploratore vuole vedere la tomba scostarono un tavolo sotto al quale si trovava veramente una lapide era una pietra semplice sufficientemente bassa da rimanere celata sotto un tavolo aveva un'iscrizione con lettere molto piccole l'esploratore dovette inginocchiarsi per leggerla diceva qui giace il vecchio comandante i suoi seguaci che ora non possono avere alcun nome gli hanno scavato la tomba e posto questa pietra una profezia afferma che fra un certo numero di anni il comandante risusciterà e da questa casa guiderà i suoi seguaci alla riconquista della colonia credete e aspettate quando l'esploratore aveva finito di leggere e si alzò vide che gli uomini circostanti sorridevano come se avessero letto l'iscrizione assieme a lui la considerassero ridicola e li invitassero a condividere la loro opinione l'esploratore fece finta di non accorgersene distribuì alcune monete fra gli uomini attese che il tavolo fosse rimesso a posto uscì dalla casa da te e s'avviò verso il porto il soldato e il condannato avevano trovato nella casa da te dei conoscenti che li trattennero però dovevano essere riusciti a staccarsi ben presto da loro perché l'esploratore si trovava ancora a metà della scala che portava alle barche quando essi gli corsero dietro probabilmente volevano costringere l'esploratore all'ultimo momento a portarli con sé mentre egli contrattava con un marinaio in basso il prezzo del tragitto sino al piroscafo i due scesero le scale a precipizio ma in silenzio perché non osavano gridare tuttavia quando arrivarono giù l'esploratore era già nella barca e il marinaio la stava staccando dalla riva avrebbero potuto ancora saltare nell'imbarcazione ma l'esploratore sollevò dal fondo un grosso cavo pieno di nodi e minacciandoli con quello impedì loro di salire l'esploratore grazie a tutti